Attenzione, attenzione a tutti i cittadini, attenzione, l'epidemia continua a mietere vittime tra la popolazione del nostro paese, l'unico modo per combattere l'epidemia è la vaccinazione obbligatoria. Tutti i cittadini di tutte le età sono tenuti a presentarsi per la vaccinazione contro l'epidemia presso i centri appositamente istituiti dalla Croce Rossa per la campagna antiepidemica. Chi contraviene incorre nell'articolo 820. Sta arrivando, sta arrivando. Prima è arrivato al cancello, passo. La macchina nel pianone, passo. Ha ricevuto anche un d'altro. Benvenuto. Benvenuto, grazie. Sono il vicequestore Arras, distaccato dal ministero fino alla fine. La fine di che? Fino alla fine. Prego.